Siamo pronti per incominciare una nuova giornata assieme, come al solito, con la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali, poi andremo ad approfondire i temi locali del nostro territorio. Prima di farlo, però, uno sguardo alla situazione del traffico lungo le strade e autostrade della nostra regione. Al momento, come potete vedere dalla mappa, non ci sono situazioni di particolare disagio lungo la tratta Venezia-Trieste dell'A4 e nemmeno sulla A23 Palmanova-Udine-Tarviso ci sono i consueti restringimenti per i lavori della terza corsia tra lo snodo di Palmanova e Porto Gruaro. Per il resto la circolazione scorre tranquilla. Andiamo dunque sulle prime pagine dei quotidiani nazionali, dove tiene banco oggi lo scontro tra Italia e Francia sulla gestione dei migranti e degli sbarchi. Partiamo dalla prima del Corriere della Sera. Il titolo di apertura, alta tensione tra Italia e Francia, da Macron accuse di cinismo sui migranti, conte replica ipocrisie e ora il vertice è a rischio. Critiche anche da Madrid, elogi da Orban, navi italiani porteranno a Valencia 500 dei 629 dell'Aquarius. La vignetta di Giannelli con Macron a parole e il vomito della parola fraternité. Poi c'è l'intervista al ministro degli interni, Matteo Salvini, che dice che sta nascendo un asse con i tedeschi. Oggi ho parlato con il ministro Hort Sehofer e posso dire che forse sta nascendo un asse italo-tedesca basata su una parola d'ordine, difendere le frontiere esterne. Gli altri temi che abbiamo sul Corriere della Sera, storie e volti. Latina clan Roma vendeva i voti per il comune e poi ancora la trasparenza e l'alto burocrate in ascesa. Busia verso Palazzo Chigi, considerato il dirigente capofila dei colleghi ostili, ha la trasparenza sui beni dei dirigenti. A centro pagina il Corriere sceglie la foto storica tra Kim e Trump, la stretta di mano per la pace, un faccia a faccia durato 40 minuti e poi è stato firmato l'accordo contro il nucleare, così Donald Cavalca. Il disordine globale, l'editoriale di Massimo Gaggi, guerra agli alleati, dialogo con i nemici. In pochi giorni Trump ha disarticolato il G7, ha dichiarato guerra ai partner europei al Giappone sul commercio e poi ha umiliato l'amico Trudeau e ha abbracciato il nemico Kim. Questa era la prima pagina del Corriere della Sera, ci spostiamo ora su Repubblica, dove in questo caso la foto scelta è la stessa, solo con i due leader politici di spalle. Ed è Trump e Kim, cosa manca per la pace vera dopo le vertice di Singapore? C'è l'editoriale di Federico Rampini che dice, 13 secondi di stretta di mano, siglano il vertice più improbabile della storia. Presidente Kim è un onore, insieme avremo un successo formidabile, risolveremo un problema che nessuno era riuscito a eliminare. Presidente Trump, la risposta di Kim, abbiamo superato scetticismo e speculazioni su questo summit, è un buon preludio per la pace. A centro pagina la Francia all'attacco di Salvini, Macron, Italia Cinica sui migranti, critiche di Germania e Spagna, Conte a rischio il vertice all'Eliseo. Via al mini condono fiscale, tripolo ruolo di Di Maio, proteste nei 5 Stelle, nominati 6 vice e 39 sottosegretari, questo sul fronte politico interno. E poi l'inchiesta a fondi padani, rogatorie dei PM, 3 milioni sospetti dal Lussemburgo. C'è anche il diario dall'Aquarius tra fantasmi e sogni, non dateci ai libici, firmato da Alessandro Porro. Lasciamo anche la prima pagina di Repubblica, ci spostiamo su Libero. Il titolo scelto non c'è porto per tutti chiusi gli scali e anche le bocche di sinistra. Il ministro dell'Interno non accoglie la nave carica dei 629 profughi, sarà ospitata dalla Spagna, però non è finita. Altre imbarcazioni straniere infatti sono in azione e mille migranti stanno per arrivare. A centro pagina Salvini è l'eroe, ne si spezza, ne si piega. E poi ancora all'analisi dopo il voto delle amministrative di domenica, il vento leghista fa volare il centro-destra, i grillini spariscono alle elezioni locali, il PD perde colpi ma resiste. Il carroccio trionfa nei comuni perché ha esponenti credibili ed è forte sul territorio. Qualità che il Movimento 5 Stelle non ha. E poi altri spunti dalla prima di Libero. L'ex direttore del carcere finisce pure lui in arresto. Succede a Bergamo, mentre a Modena, 92 anni, lascia il marito per un tradimento. Nel 1966 il divorzio più inutile. Da Libero ci spostiamo sulla prima del foglio. Andiamo a vedere cosa suggerisce oggi il quotidiano diretto da Claudio Cerasa. A centro pagina l'Italia cresce solo se crescono i salari dopo i migranti il lavoro, come si risponde alla demagogia populista perché politici, imprenditori e sindacati hanno il dovere di lanciare una sfida al qualunquismo mettendo più soldi nelle tasche dei lavoratori. A di taglio alto abbiamo il francobollo, siamo spacciati con la volontà popolare che è da nazione e la Brexit, sì, che fare opposizione non era difficile. Lasciamo anche il foglio e ci spostiamo su il giornale. Questa è la prima pagina, il titolo scelto. Vomitevoli, cinici e poveretti, mezza Europa. Ci dichiara guerra, lo scontro sull'immigrazione, Francia e Spagna insultano l'Italia. A Conte dice no a elezioni ipocrite, Salvini tiene duro e la sinistra lo porta in tribunale. A centro pagina la stretta di mano che spegne l'atomica, firmato a Singapore lo storico accordo tra Kim e Trump. E poi ancora di taglio centrale, Di Maio si prende medias e Berlusconi irritato con la Lega dopo il delicato risico delle deleghe per viceministri e sottosegretari. C'è anche una notizia che arriva dalla RAI, da Saxarubra. C'è stata un'esplosione di alcune batterie in diretta al Tg1. Uno dell'evento interrotto, panico, colpa di un ripetitore. Lasciamo anche il giornale, ci spostiamo sulla stampa. Questa è la prima pagina. Il titolo. Aquarius, la crisi divide l'Europa, lite Italia-Francia, vertice imbilico, Salvini, studiamo con Berlino come proteggere le frontiere, l'ipotesi di campi profughi nel Nord Africa. A fondo di Macron, gestione cinica e irresponsabile, la replica di Conte, un'ipocrita. Ci sono alcuni spunti dalla stampa con il ministro Borrell che dice apriamo i porti per salvare l'Unione Europea, il ministro Spagnolo. Per quanto riguarda invece il governo italiano, sei vice ministri e al premier la delega sui servizi, completato l'esecutivo. Centropagina alla stretta di mano con Trump-Kim, una stretta per la storia. Ecco i rischi sul cammino della pace. E poi altri spunti dalla stampa. Troviamo il finanziere Cravis che dice attirate capitali stranieri per rafforzare le banche. E poi l'inchiesta ai fondi della Lega, rientrati dall'estero, soldi dei rimborsi truffa. Lasciamo la stampa e ci spostiamo sul manifesto con la foto. Notizia centrale e la doppia faccia cinico e baro, secondo il manifesto delle polemiche di questi giorni tra Italia e Francia. Da un lato Salvini e dall'altro Macron, la chiusura dei porti italiani all'acquario. Si infiamma lo scontro sulla pelle dei migranti. Macron dimentica la sua linea dura, attacca il cinismo di Salvini. Palazzo Chigi minaccia lo stop al vertice di Parigi. La nave verso la Spagna, naufragio a largo della Libia. 12 i morti di taglio alto, invece ancora agli esteri, la pace mediatica di Kim e Trump, ex testate calde. Il sottotitolo e poi ancora sotto governo il manuale Cencelli in salsa giallo-verde. E poi ancora un genocidio nel Mediterraneo, intervista a Balibar, filosofo che si occupa di migrazioni. Per quanto riguarda invece la verità, andiamo a completare la nostra carrellata di prime pagine nazionali. Macron guida gli sciacalli d'Europa. Senti chi parla, la Francia definisce vomitevole l'atteggiamento dell'Italia con l'Aquarius. La Spagna minaccia sanzioni, sono i paesi che fanno morire donne incinte e sparano sui migranti. Ma il PD sta con loro, scrive nel suo editoriale Maurizio Belpietro. Di taglio alto abbiamo negli USA con il jet privato di lusso, chi paga i 150 mila euro per Renzi in volo con la scorta e segretario. E poi, sempre dalla verità, l'incontro tra Trump e Kim. Vediamo come riusciranno a non dare il Nobel al ruggito di pace di Trump. E poi ancora, grazie Ruggeri, hai regalato anche a me energia e lucidità per affrontare il cancro. Lasciamo la verità e completiamo la nostra carrellata, dunque con le prime pagine dei quotidiani nazionali. Ci spostiamo sul nostro territorio e apriamo con il messaggero Veneto. L'apertura è dedicata ai dati, resi noti ieri dall'Ires, sull'occupazione. Quella femminile in particolare, che va male. Persi, infatti, oltre 4 mila posti di lavoro. Dati negativi per commercio e alberghi. Di taglio alto, invece, la presentazione del maxipiano A4 per affrontare il caos dell'esodo estivo con i transiti che tornano ai livelli pre-crisi con 48 milioni di mezzi in marcia all'anno e la terza corsia che sarà finita per la metà del 2020. A centro pagina la foto richiama un episodio di cronaca che è accaduto ieri in tala serata a Udine, ovvero un albero che si è abbattuto su Viale della Vittoria. Fortunatamente non ha travolto nessuno al lavoro, i vigili del fuoco, per liberare l'arteria. Per quanto riguarda invece gli altri spunti, dalle pagine del messaggero, la politica regionale con gli attacchi contro Romoli, ora Savino fa dietro front e poi a Udine invece il sindaco Fontanini che annuncia un cambio di marcia per quanto riguarda la raccolta differenziata dei cassonetti. Andiamo dunque all'interno ad approfondire alcune delle tematiche che abbiamo trovato in prima pagina. Partiamo dalla conferenza stampa che c'è stata ieri a Mestre per illustrare il piano estivo contro l'Esodo, una task force anticode, presegnalazioni e deviazioni in causa di incolonamenti, cantieri sospesi, pannelli e telecamere rafforzati, pronto intervento e soccorsi sanitari. Andiamo anche a vedere la mappa tra Friuli, Venezia, Giulia e Veneto con le direttrici e percorsi alternativi in caso di code di congestioni nel tratto compreso tra Sandona di Piave e Palmanova, Porto Gruaro con le deviazioni lungo, la 27, la Conegliano-Pordenone. Per quanto riguarda gli altri spunti usciti dalla conferenza stampa si è parlato anche del passante, la quarta corsia che va avanti, serato della CAV ha dichiarato tratto critico di 10 km, studiamo l'ipotesi. Per quanto riguarda invece i dati sul traffico e sugli incidenti, un traffico ai livelli pre-crisi, la terza corsia sarà finita nel 2020, in un anno ha attraversato la direttrice, 48 milioni di mezzi, un milione e mezzo in più, il Presidente di Autovie Castagna, contiamo di chiudere i lavori entro due anni e nella mappa vediamo appunto i tratti di realizzazione della terza corsia, quella già completata tra quanto Daltino e Sandona e poi i lotti in costruzione. Per quanto riguarda tra l'altro poi ieri l'autostrada, ennesimo incidenti e lunghe code senza sosta, anche ieri la circolazione in tilta nella bassa friulana e lungo la Pontebana. Andiamo avanti con le pagine interne, ci occupiamo di politica nazionale ma con risvolti locali perché all'interno della selva di sottosegretari nominati ieri dal Governo Conte saranno due quelle ispettanti alla nostra regione, si tratta di Vania Gava, deputato della Lega di Sacile e Vincenzo Zoccano che era candidato per il Movimento 5 Stelle nel Collegio di Trieste, Presidente del Forum Nazionale della Disabilità, saranno loro due il trade union tra il Friuli Venezia Giulia e il Governo. Andiamo avanti con le politiche regionali e le polemiche politiche soprattutto, con la retromarcia di Sandra Savino, coordinatrice regionale di Forza Italia, conta la salute di Romoli, dietro front, non conoscevo le sue reali condizioni, a nome del partito dico Forza Ettore. Poi ci confronteremo politicamente, questo anche alla luce della lettera pubblicata ieri, resa nota dai figli di Romoli, Andrea e Francesca, che hanno definito vergognosi gli attacchi a chi lotta per la vita. Queste dunque le polemiche relative a Forza Italia. Andiamo avanti e troviamo un'operazione dei carabinieri che hanno posto sotto sequestro alcune aree del porto di Monfalcone e l'inchiesta della procura di Gorizia per dragaggi abusivi. Quattro gli avvisi di garanzia coinvolte anche la polese di Sacile. Ieri c'è stata anche la presentazione dell'accordo tra i gestori idrici del Friuli Venezia Giulia, sicurezza e qualità dell'acqua. C'è la regia unica. Il Friuli Venezia Giulia apri pista in Italia e sette gestori fanno squadra per il controllo e la garanzia del servizio. Andiamo a parlare ora di economia. L'avevamo trovato in prima pagina sul messaggero i dati sull'occupazione in Friuli Venezia Giulia. Meno 4.300 gli occupati, a calare soprattutto le donne. La flessione è avvenuta nel primo trimestre dell'anno rispetto alla chiusura del 2017. A pagare maggiormente il rallentamento, commercio, alberghi e ristoranti. Andiamo a vedere assieme le tabelle che riepilogano i dati suddivisi per regione e per genere con la variazione i maschi che sono aumentati del 4 e 4, le femmine scese del 4 e 2. Questa è anche la grafica per quanto riguarda gli occupati per settore con il commercio e il terziario che la fa da padrone, poi l'industria e quindi costruzioni e agricoltura. Ancora i dati con i singoli valori. I riflessi di questi dati nei commenti del sindacato Rietta Olivo della CGL dice una battuta d'arresto che ci preoccupa già nel 2017. C'erano infatti stati segnali di rallentamento nella crescita occupazionale. Solo le prossime rilevazioni in caso ci diranno se siamo in presenza di una diminuzione frutto di una ciclicità stagionale o di una inversione di tendenza. Quello che cresce invece continua a crescere molto bene in Friuli e l'export tra le mete Germania e Francia con la provincia di Udine che la fa da padrona sul fronte del settore metallo-meccanico e siderurgico. Questi sono i dati dunque. Andiamo sulle altre pagine del Messaggero Veneto e parliamo di rifiuti con la nuova operazione di Fontanini che ha annunciato via i cassonetti porta a porta in tutta la città. Il sindaco ha dichiarato che per potenziare la raccolta differenziata si è già al lavoro per modificare il servizio assieme alla NET. Ci sono anche riepilogo dei dati per quanto riguarda la differenziata in città. Una crescita, un miglioramento dal 2014 al 2017 ma il problema che segnala e rimarca Fontanini è quello che togliendo i grandi bidoni dalle strade si eliminerebbero anche i problemi dei pendolari, dei rifiuti che vengono a scaricare a Udine dalle altre località della zona. Ma c'è anche l'ipotesi, dice Fontanini, di predisporre dei raccoglitori condominali. Andiamo ancora avanti con le pagine interne del Messaggero. Avevamo visto la fotonotizia in apertura con l'albero che è crollato ieri in centro città. Fortunatamente nessun ferito. È successo in Viale della Vittoria, un ciclista ha sentito scricchiolare il grosso ramo, si è fermato e poi c'è stato lo schianto, vedete nelle immagini, con il tronco che ha invaso tutta la carreggiata e poi i vigili del fuoco a tagliarlo e a rimuovere per far riprendere la circolazione cittadina. Ancora polemiche sul fronte scuola con Infradito e Pantaloncini che non entrano in classe negli istituti cittadini. Poche regole scritte, si punta sul buonsenso. Il Tomadini fa eccezione, dice non siamo in spiaggia. Tra l'altro oggi iniziano gli esami per i ragazzi delle medie, ben 5.000 tredicenni che dovranno affrontare appunto questo ulteriore scoglio per passare di grado. Ancora dalle pagine interne del messaggero con la giudiziaria e i risvolti dopo la decisione del GUP su Mazzega, niente ergastolo perché appunto i difensori del reo confesso dell'omicidio di Nadia Orlando hanno chiesto il rito abbreviato. La discussione delle parti è stata fissata proprio per il 3 luglio e la regione che parte civile con l'avvocato Lucchini dice invece per l'ISA il vuoto. Ci si fa il punto anche sulle precedenti costituzioni di parte civile. Lasciamo le pagine del messaggero Veneto, ci spostiamo sul gazzettino. Andiamo a vedere innanzitutto la prima pagina dove ritroviamo il tema migranti con Parigi che insulta l'Italia. A Coarius la Francia accusa Roma vomitevole e cinica, Palazzo Chigi dice niente lezioni ipocrite. Conte valuta di annullare il vertice con Macron, c'è l'altolà della Merkel e l'Unione Europea che dice appunto risponda unita o esplode. Per quanto riguarda le altre notizie c'è appunto l'autonomia veneta, la corsia preferenziale, il piano di zaio del ministro Stefani, una legge delega in Parlamento entro l'anno. E poi la tragedia, un anno senza glorie Marco, morti nel rogo di Londra. Ciao mamma, vado in cielo dal nonno. Andiamo all'interno per vedere nelle pagine del gazzettino come si presenta l'incontro di ieri che c'è stato appunto per la presentazione del piano per l'esodo estivo. Si punta nell'apertura alla terza corsia. Stiamo correndo, dice Castagna, tre quarti dell'opera sulla quattro, il nuovo ponte sul tagliamento completati entro il 2020. Rimarranno poi da ultimare i tratti quarto d'altino Porto Gruaro e la Palma Nova Villesse. Intanto Cav pensa già alla quarta corsia. Questa è la mappa, dicevamo appunto degli snodi con i lavori, il punto e le varie fasi successive per il completamento dell'opera. Per quanto riguarda gli esodi estivi, si ricorda che Cav, Autovie e la Brescia Padova ha una sola app per vedere il traffico, info viaggiando. Poi c'è anche il cartello con le varie giornate, i bollini neri previsti tra i mesi di luglio e agosto lungo le autostrade del nord-est. Andiamo all'interno del gazzettino, nel dorso friulano, dove in apertura si richiama appunto il piano anti-incidenti, ma poi le altre notizie che troviamo. C'è la notizia appunto sul femminicidio, il verdetto lampo per quanto riguarda il processo a Mazzega, la sentenza probabilmente entro un mese, la famiglia che aggiunge, abbreviato, una scelta insindacabile. Gli altri fatti di cronaca, Lignano, una turista straniera che si è sentita male in spiaggia ed è morta. La centropagina invece è il Leggio con la sua mostra verso i 50.000 visitatori, l'obiettivo che spera di raggiungere quest'anno il comitato di San Floriano. Ci sono anche sul gazzettino i richiami ai dati sull'occupazione, una battuta d'arresto per il lavoro e poi c'è il Friuli in Cina per conquistare il mercato. Abbiamo anche un'anticipazione dallo sport all'Udinese che deve riconquistare i tifosi per quanto riguarda appunto la nuova stagione sportiva. Andiamo all'interno per approfondire alcuni argomenti e naturalmente le altre notizie che abbiamo sul gazzettino. Ci spostiamo nella pagina dedicata appunto al lavoro con la perdita dei 4.000 occupati, l'occupazione in regione che tira il freno a mano e i sindacati preoccupati dai dati sull'impiego femminile. Nel 2017 c'erano stati segnali particolarmente positivi sulla fronte dei lavoratori. Per il capitolo il legio con gli auspici da parte del comitato su una boom di visite c'è anche l'assessore regionale Bini che dice questo evento è un modello da replicare. La mostra punta ai 50.000 negli anni. Il paesino cannico ha visto arrivare 400.000 persone. Le altre notizie dalle pagine della destra tagliamento del gazzettino, dal maniaghese spilimberghese c'è il crack dell'ex Tramontina, 5 rinvia giudizio per la bancarotta della storica azienda di Legnami. Anche 3 patteggiamenti prima del fallimento la società affidata, 7 manager da Londra. E poi ancora, sempre dalle pagine del gazzettino, un malore durante la partita ad Azzano Decimo tradito dal cuore sul campo di calcio salvo con il defibrillatore. Un calciatore si è sentito male al torneo dei Borghi, ha perso i sensi a salvargli la vita, un'infermiera. Lasciamo le pagine del gazzettino e ci spostiamo su quelle del messaggero di Pordenone, dove in apertura abbiamo la fotonotizia che richiama dei test atletici per i vigili. Perché ieri è stato ufficializzato un concorso alla ricerca di 7 agenti di polizia locale in città e naturalmente sono ferrei i requisiti per parteciparvi. Partiamo dalle pagine interne con la notizia di un malore a scuola dopo lo spinello. È accaduto alla Flora, il quindicenne è stato accompagnato da un insegnante al pronto soccorso. In ospedale gli è stata diagnosticata un'intossicazione da marijuana. I carabinieri stanno indagando per capire chi ha fornito la sostanza. Dicevamo del concorso della polizia locale, prove di corsa e salto in alto previste appunto dal bundle, comune a bandito, una selezione per 7 agenti, non devono avere più di 35 anni, soltanto chi supera i test di idoneità fisica potrà proseguire. Si può essere esclusi anche per i tatuaggi. Queste le notizie che troviamo sul messaggero di Pordenone. C'è anche un incontro da segnalare, quello avvenuto ieri in un'industria, tra il governatore della regione Fedriga e i vertici delle categorie, l'impegno per Camera di Commercio e viabilità, vedete Fedriga con Michelangelo Agrusti e i vari rappresentanti delle categorie economiche di Pordenone. Lasciamo anche il messaggero della destra a tagliamento e andiamo ad aprire ora le pagine del piccolo. Partiamo da quella di Trieste, l'apertura è dedicata allo scontro Italia-Francia sui migranti. Parigi che accusa, scelta cinica, la replica, non accettiamo lezioni. Di taglio alto lo sport che vede l'Alma Trieste a un passo dal sogno, netta vittoria dei Triestini 80-69 su Casale, sabato in Piemonte il match point per volare in serie A1. e poi ci sono anche altre notizie che riguardano la società con il Palaspot che cambia nome e diventa Alliance Dome, mentre il pubblico che canta in coro. Torneremo in serie A. Centro pagina il volo con l'auto da sei metri con una donna appunto che a Trieste si è ribaltata con il proprio veicolo tra via Valerio e strada nuova per Opicina. Le altre notizie, la politica regionale con l'ira dei figli di Romoli, Savino ora la smetta e poi un accoltellamento avvenuto davanti alla mensa dei poveri dopo un litigio. Andiamo dunque nelle pagine interne del piccolo con la politica regionale e le dichiarazioni dei figli di Ettore Romoli con una lettera aperta di Andrea e Francesca contro gli attacchi violenti e spietati indirizzati a nostro padre che sta lottando per la vita in un letto di ospedale. Ci sono anche altre notizie che arrivano dalla regione con l'incontro tra Massimiliano Fedriga, il protocollo di Sappada, l'impegno per la comune rientrato in regione e poi le polemiche sulla comunità slovena, un seggio garantito e la lingua al centro del comitato paritetico. Il capitolo sottosegretari, anche il piccolo riprende la notizia dei due regionali nominati nel governo, Zoccano e Gava, il pentastellato viceministro con delega alla disabilità, l'esponente leghista sottosegretario all'ambiente, li vedete nelle immagini. E poi le altre notizie dalla regione Riccardi che punta il faro su in si e l'assessore alla salute si chiede se la società sia ancora in grado di offrire servizi ai cittadini, mentre ci sono nervi tesi per le presidenze delle commissioni che oggi saranno votate a Trieste, i tasselli creano scontenti nel carroccio, Bordin dice è normale. Dal piccolo di Trieste andiamo a vedere anche l'apertura del piccolo di Gorizia con il cambio, a centro pagina della foto si parla dell'inchiesta della procura sul porto di Monfalcone, tre navi sequestrate e quattro indagati bloccati i dragaggi. Per quanto riguarda appunto Monfalcone andiamo a vedere anche la prima pagina del dorso interno dedicato a Gorizia con il palabigot chiuso rinascita rinviata al 2019. L'obiettivo del comune è quello di far risorgere il basket, abbiamo contatti con club di alto livello e ospitare concerti, queste le idee dell'amministrazione di Rodolfo Ziberna. Ci fermiamo qui, il tempo della pubblicità, poi ritorneremo assieme, buongiorno friuli, seconda parte, parleremo di sport e di Udinese. A tra poco!